gradualmente la macchina prende velocità ed è Nada Mas che va all'attacco di Odino d'Alfa Nada che sfila su Odino, Josef De Greppi, onda gigante, Noram LB, Nuvolari grada all'esterno 200 iniziali in 14 e 3, Alli che affrontano la prima curva, Nuvolari che si sistema in coda intanto Nada affronta al comando la prima curva, la segue Odino davanti a Josef, onda gigante all'argo Noram in coda, Nuvolari, il passaggio di fronte alle tribune con Nada in vantaggio viaggia piuttosto larga, Odino nella sua scia più o meno, poi Josef, i 600 iniziali di Nada Mas in 47, Alli che affrontano ora l'ingresso sulla penultima curva, Nada in vantaggio su Odino e Josef, Noram all'esterno, poi onda gigante, Nuvolari in coda, 800 in 1 e 2, incorrenti che vanno ora ad imboccare la retta opposta alle tribune con Nada in vantaggio, Odino di rincalzo, poi Josef, Noram all'esterno, onda gigante e infine Nuvolari grada, il primo chilometro sul piede dell'1 e 17, Nada sempre in vantaggio, Odino che la segue, ora è coperto da Noram LB, la retta opposta in 14-18, Nada al comando, Odino di rincalzo, Noram all'esterno, poi Josef e Nuvolari, quindi onda gigante e siamo ora all'ingresso della retta di arrivo, Nada in vantaggio, all'esterno Noram che prova l'attacco, di dentro Odino d'Alfa, Noram LB che attacca Nada Mas e passa in vantaggio, Odino filtra all'interno di Nada, Noram in vantaggio, poi Odino, Noram vince, Odino è secondo, per il terzo arrivo molto stretto fra Nuvolari e Nada, quindi Noram LB 2-1 e mezzo, la media intorno all'1 e 16, insalchi Francesco Fronzoni, il training di Felice Facci, i colori della scuderia Elisir, la quota ha fatto il totalizzatore per Noram LB 12 e 63.